Tra l'altro oggi ha fatto anche una bella vittoria, allora vediamo il primo contatto di Cori che poi va a finire in... Di Cori che dà una botta a Segu che si gira, quindi vediamo se ho visto bene, però mi sembra proprio che Di Cori vada a prendere... Eh sì, ha preso l'88, ha preso... L'88 ha preso il 93 e poi...